Il motivo per cui siamo qua è proprio questo, per far sì che un tema che a volte ci può sembrare complesso perché è nuovo, perché è pieno di termini che magari non mastichiamo dalla mattina alla sera, possa diventare invece qualcosa con cui almeno sappiamo orientarci. Il futuro è già qua, però non è distribuito in maniera uniforme. Le soldi non sono veri, non esistono soldi veri, non ci sono soldi veri, non sono veri soldi. I soldi sono convenzione sociale con cui noi decidiamo di misurare il valore. Non è un'evoluzione che è un altro passettino in avanti che viene fatto da questa tecnologia. È una rottura, è uno spezzare il ponte e ricominciare da un'altra parte con degli assunti completamente diversi. E uno di questi assunti è, ragazzi, i soldi non sono veri. Cioè, noi ci crediamo perché fanno parte della nostra vita, ma non sono reali. È pseudo-anonima, non è anonima completamente, è pseudo-anonima. Non puoi sostituire, scambiare, fare dei sotterfugi, dei magheggi con bitcoin, perché c'è la blockchain che dà fortissime garanze in questo senso. È trustless, questa è una cosa fondamentale, vuol dire che non ti devi fidare di nessuno perché non ne hai bisogno, perché tutto è verificabile, tutto si può vedere, tutto è trasparente, quindi è tutto sicuro, è tutto completamente distribuito, cioè non c'è un punto centrale da nessuna parte dove stanno i bitcoin, dove sta la blockchain, non c'è un centro da spegnere, non c'è un data center che ti metti una bomba e ti hai finito tutto. È totalmente distribuito in giro per il mondo. È libero, nel senso che chiunque può farne parte, gratuitamente, nel senso che non devi chiedere autorizzazioni o pagare delle fee di accesso, devi comprarli, se li puoi comprare, perché hanno un valore, ma non è che ci sono dei costi aggiunti. Non è frazionabile, perché chi ha creato bitcoin e il protocollo, soprattutto, che lo gestisce, ha stabilito che doveva rappresentare in qualche maniera l'oro, seguire un po' il concetto dell'oro come bene, e quindi siccome l'oro è scarso, perché in questo pianeta più di un tot di oro non ci può essere, allora sarà scarso anche bitcoin. Possono esistere, come immagino sappiate, 21 milioni di bitcoin, 15 mila nodi, nessuno sa dove sono di preciso. Questo è bellissimo, perché non si possono spegnere tutti e 15 mila nodi contemporaneamente, e finché ce ne saranno due o tre in piedi, la rete va avanti, e non c'è modo di farla fuori. Direi a tutti quanti che questa roba qua c'è, esiste, funziona, funziona al contrario di quello che leggete sui giornali, la maggior parte delle volte, e ha delle potenzialità enormi, ma non perché, come dire, cioè la cosa da dimostrare per me è che questa roba qua non è fuffa, non è, come dire, il sale magico della Vannamarchi, non è un modo per far soldi velocemente e in fretta, attenzione, è una cosa diversa, è proprio un cambiamento epocale, secondo me va inquadrato in questi termini qua. Quindi nasce bitcoin, per sostenere bitcoin, quindi una valuta unica mondiale, c'è questa tecnologia che si chiama blockchain, che è il motore, che permette di far sì che i bitcoin esistano, che oggi noi ne parliamo, che li possiamo utilizzare e che li possiamo scambiare. La blockchain è composta da 15.000 nodi sparsi in tutto il mondo, contenenti le stesse informazioni, e quindi ne rimanesse anche solo uno, tutto ciò che è contenuto è salvato. Per accedere a questo mondo è necessario avere un wallet. Cos'è il wallet? è un mazzo di chiavi con cui ognuno di noi può accedere a questa opportunità, può accedere a questo valore, può accedere a questa tecnologia.